A BELLADI 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 la capa d'anguèdo Cristiano. La Tramandana più ha cominciato a me ne ha vinto forte, ma a più a me ne ha vinto, più Cristiano si arveggiavano dalla capa, per esempio quando la Tramandana non ce la face più e si affermò. Dopo, a quando il sole si faceva vede in docile, il Cristiano ha cominciato a crepare caldo e salvò la capa d'anguèdo. A che sì, la Tramandana fu costretta a dire che il sole è più forte di ed. Ma, da piaciuto se tu fatti a ridere, vuoi che tu ti garete?